Musica Bentornati sul canale di Axios 00 Bentornati a un episodio di Monster Hunter World Volevo procedere quest'oggi con la trama Quindi andremo a caccia di Castodon se non ho letto male Ma prima di tutto volevo mostrarvi una cosa Cioè io mi sono fatto le varie lame doppie Mi sono prodotto, forgiato le varie lame doppie E ho provato a vedere un po' come funzionavano Facendo una missione esterna alla trama Per rimpinzare un po' di ingredienti La mensa mi chiedeva il gatto della mensa Mi chiedeva di andare, il felin della mensa Mi chiedeva di andare a prendere le fungurme Io così ho fatto E dopo di che mi sono creato queste motoseglie del difensore Così giusto per soddisfazione personale Le ho un po' testate e sono delle vere e proprie motoseglie Nel senso che non temono niente Spaccano tutto anche troppo In quanto hanno anche l'attributo scoppio 120 Oltre a un attacco pauroso E un'acutezza fenomenale Perché guardate quanto è grande la barra verde Rispetto a quelle normali Queste sono le accette d'osso che ho creato Che ho forgiato E insieme alle forbici combinate Uno sono le armi basi con cui iniziamo il gioco Come vedete sono decisamente molto più deboli Rispetto alle motoseglie del difensore Quindi io cercherò Le ho create ma non le userò Queste motoseglie del difensore Perché sono veramente troppo troppo forti Secondo me sbilanciano completamente il gioco E quindi andrò di accette d'osso uno Che come acutezza fanno piuttosto schifo Infatti il giallo è Non c'è neanche il verde Prima di tutto il giallo è molto poco Si va quasi subito sull'arancione Quindi rischiamo Però è quello che voglio fare Cioè rischiare insieme a voi Di non fare neanche un colpo E di rimbalzare direttamente Sulla corazza dei nemici Comunque sfratto dei Kestodon Questa è la missione che dobbiamo andare ad accettare Quindi facciamo nuova sessione E facciamo i carichi Era tra le facoltative la missione che ho fatto Ve la faccio vedere un secondo Le ho completate tutte Era a caccia di funghi nella foresta antica Era questo quello che dovevamo fare Vedete Ottieni 20 funghi Gourmet Ricompensa base Tempo limite E sblocca un ingrediente Per la mensa Al primo completamento Quindi l'abbiamo fatto Perciò andiamo agli incarichi E selezioniamo Scusate la voce Ma oggi è così E selezioniamo Sfratto dei Kestodon Fa parte della storia principale Quindi ve lo porterò Le missioni che faranno parte Della missione principale Ve le porterò in video Allora che cosa devo fare esattamente La comparsa dello Zora Magdalos Spinto un branco di Kestodon A migrare verso un nuovo territorio Mettiti all'opera E riduci di numero Quegli zucconi Bene così Ok Confermiamo No che giocatori qua Che giocatori 4 Ma anche no Ma anche no Un giocatore Sono da solo Accettare questa missione Sì i buoni Non li voglio Onestamente Ma anche sì Uno ce l'abbiamo Usiamolo no Ma sì dai Ce l'abbiamo Buono È lì Fermo Tranquillo Calmo Pronto per essere usato Sono i buoni D'accesso in pratica Quelli Tutta la volta che accedete Al gioco Vi da dei buoni Quindi Perché non usarli no Io A parte C'è un buggy Bellissimo Un buggy Bellissimo È bellissimo Dicevo A parte il forgiarmi Le armi Non ho potenziato Assolutamente niente Quindi Scopriremo insieme Che cosa possono fare Ste falci d'osso E andiamo Direttamente In missione Sì Ok Intanto Bellissimo Il fatto che noi Ci siamo fatti Un aerotaxi Quando siamo arrivati Per la prima volta Con lo tiro d'attilo Chiamiamolo così Ci siamo fatti Questo taxi Personalizzato Che lo chiamiamo E andiamo in giro Figata sta cosa Bene La missione prevede Di abbattere Un certo numero Di Kestodon Di recente Il branco Si è ingrossato A dismisura Ok Andiamo Sì Perché ve la sto portando Vi avevo detto Che avrei portato Solo mostri grandi No Ma perché Una missione principale Mi sembra giusto Farvelo vedere In modo da farvi Capire anche la storia Visto che ha una storia Questo Monster Hunter World Quindi Perché rovinarla così È giusto portarla Anche in video E poi Perché Magari potrebbe Venire fuori Un qualcosina Di interessante Ti presento il Kestodon Vediamo se riesci A sconfiggerli Senza bisogno Di aiuto È strano trovare Il Kestodon Da queste parti Deve essere a causa Dello Zola Magdalos Ma E questi non sono Upnot Fai attenzione Il Kestodon Non credo Siamo questi Sapete Ok Anche meno Io intanto Mi sono fatto Un po' di tutorial Con le armi Ho cercato di Imparare bene la cosa Quindi Modalità demone E proviamo A fare più danni possibili In modo da Prenderle di brutto In modo da entrare Possibilmente nella modalità Arci demone Ale L'ha schivata Si schiva ogni tanto No Niente Bene Sono entrato in un loop Di botte glamorose Intanto Come avete potuto vedere La modalità Demone Consuma La barra gialla Cioè Consuma La barra Della nostra Stamina Quindi Viviamo di utilizzarla E stavolta Di giocarla Come si deve Disse lui Prima di prendere Un altro colpo Stupidamente Devo imparare A dosare bene La potenza Di queste lame Perché Altrimenti Va a finire Veramente Veramente male Scusate se mi son curato Ma qui Curarsi con questi mostri È veramente pessimo Però Non lo so C'è qualcosa Che non quadra In tutto questo Intanto io mi prendo I tasti Ecco che cosa Che non quadra Perché ho giocato Di recente A un gioco Nintendo Ecco che cos'era Che mi fregava Dannazione Voi direte Ma che sta dicendo Sto tizio E Giocate a un gioco Nintendo Con un controller Nintendo E poi me lo venite A raccontare Che cos'è Che vi dico Sono i tasti Al contrario Ecco che cos'era Che non andava Maledizione Va bene Va bene Grazie Feline Gentilissimo Ok Quanti ne vanno Sistemati Altri due Maschi E altri tre femmine Ricchiesto Cerchiamo un altro Gruppo È là Guarda Credo Che questo Sarà l'ultimo Dei nostri problemi In questa foresta Si celano mostri Più grandi La fauna locale Può essere utile Durante le battaglie Raccoglie più informazioni Possibili a riguardo Fai attenzione Ve lo dicevo io Che molto probabilmente C'era qualche altra cosa Qui Allora Diamo un'occhiata Prima di tutto A quest'erba Che schifo non fa Così almeno Ce li facciamo Direttamente la pozione Nei vecchi monster hunter Avrei dovuto Crearmela la pozione Qui invece Viene Direttamente Fatta Dal gioco Sono semplificazioni Che alcune Le adoro Alcune di queste Semplificazioni Mi piacciono Veramente tanto Altre Molto molto meno Nel frattempo Io nelle mie escursioni In questa zona Ho scoperto Che i cast Non sono da queste parti Sono laggiù Di solito Esatto Infatti anche stavolta Sono laggiù Laggiù Ecco il resto Il branco E ci vediamo Stavolta sono molti di più Non ti preoccupare Perché adesso Attivo subito La modalità demone E mi faccio disintegrare Ok Vai così Benissimo Questo perché L'ho attivata La modalità demone Perché adesso La modalità Arci demone E quindi Vediamo un po' Di Sfruttare Sfruttare una cosetta Che vi volevo mostrare Se riesco a dargli Vicino Tipo questa La danza delle lame Vai 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 così Ok Però ho finito Purtroppo La modalità Arci demone Quindi niente da fare Ok No invece Non è ancora attiva Perché non ve l'ha Un'azione Io ho paura Che mi arrivi altro Onestamente Come in giro Quello è il guaio grosso Anche meno Bello Fanno delle incornate Pazzesche Questi che sono Non sono bellissimi Mamma mia La potenza Di gestionamento Alla fine Ancora come aputezza Sono quello che sono Infatti Guardate Sono già passate Da giallo Arancione Quindi Dovrò stare Ben attento E gestirle E gestirle Come si deve Per la verità Ok Per Mostri piccoli Spesso e volentieri Danno più fastidio Di quelli grandi Non so come mai Ma è così Meno per quanto mi riguarda Non mi fare l'attacco Adesso sto Sto spellando roba Per favore Signore È perché Sennò Spariscono Quindi è il caso Di Recuperare I materiali Prima possibile Anche perché Volevo farmi Una corazza Ad osso Magari Per questo episodio Che la mostro E mi ci vogliono Per l'appunto Questi Kestodon In modo da Prendere lo scalpo E la corazza E quant'altro Questo intanto È andato a vuoto In maniera assurda Guardate un po' Che cosa Non è venuto fuori Adesso Fantastico Ok No Sistemiamo a dovere Questo E Ci siamo Abbiamo concluso Un momento Qui presto Penso di aver trovato qualcosa Allora c'era qualcosina in più C'era qualcosina in più Ok Benissimo Benissimo Scusa un attimo Ma devo sistemare Anche questi Ok Almeno ci siamo presi Delle altre corazze Kestodon Buttiamo via Sono sempre materiali Che I monster hunter Sono la cosa più importante In assoluto Da recuperare Sempre e comunque A parte le pietre Pietre Di solito Che servono molto Guarda A quanto pare Un gran jagras Non ho letto poi dopo Ma Presumo Siano improntati Gran jagras Questa Eh Questo Qualcosa di strano Ah si Ah Io l'avevo scambiata Con la libro Una bella e propria fortuna Non credi Eh Gran jagras Ok Ok Gran jagras Su tutte le furie Ragazzi E ora ci andiamo Ci andiamo No no Andiamo Facciamo tutto adesso Facciamo tutto adesso Intanto Seguiamo le impronte Nel gran jagras E seleziona il razzo SOS Per chiamare i tuoi amici No Ti garantisco che avrai bisogno Dei tuoi amici Per sconfiggere alcuni Dei mostri più tenaci E questo si Possono seguire un mostro Ma bisogna aiutarli Scovando nuove tracce Come le sue impronte Ottimo Hai trovato parecchi indizi Piano piano Sto trovando un po' tutto Non ti preoccupare Intanto c'è anche Il Al villaggio Diamo così Al campo base abbiamo anche Quello che è una specie Di laboratorio Che ci permette Trovato tracce a sufficienza Ora Gli insetti guida Potranno condurci al gran jagras Ma Mi fa andare di qua lui no Io Non ho questo male Vero Cioè Mi sta portando di qua Non me lo sto sognando Vero Dicevo al villaggio Ci sono anche C'è il laboratorio Di ricerca Che ci permette di sapere di più Dei mostri E questa Che figata Ok Non ce l'ho mai passato Di qui È la prima volta che ci passo Grazie insetti guida Per guidarmi Spero in un posto buono Onestamente Anche se ci credo poco Sapere di più dei mostri Ci serve poi in combattimento Perché più che ne sappiamo Più li conosciamo Più sappiamo i loro punti deboli E anche come ottenere materiali Particolari Da loro Quindi è letteralmente Importante Mi sa che ci siamo ragazzi Vedo l'icona Del gran jagra Quindi Anche se non lo vedo Ok Ora lo vedo Ciao Gran jagras Non mi sta considerando Vediamo un po' se mi faccio considerare Da lui Cerchiamo di non stargli avanti Possibilmente Tagliargli la coda Che mi sembra una cosa Buona E giusta Ok Io dovevo Migliorare la potenza De la nostra arma Prima di entrare in combattimento Avrei fatto una cosa Eh Aia Molto interessante Intanto vediamo un po' Di mettere la coda Ok Bene così Almeno Nel caso Mi potrei nascondere No Mi posso nascondere Non al momento Quindi Ho bisogno della coda Potrebbe attaccarmi Ma è vero che Ce la confezzi Il nostro gran jagras Oh Ora mi sento un pelino meglio Wow Wow Anche meno Bello Grandi così Aia Ha preso pieno Con la zampetta Questo perché ancora Non conosco molto bene Il suo moveset I suoi attacchi Vieni qua Volevo comunque cercare di Staccare la coda Di prendere qualche Oggettino particolare Magari Finito il combattimento Per il dopo Intanto Vediamo un cardemone E vediamo un po' Di attaccare come si deve Queste lame doppie Anche una particolarità Se riuscissi a saltargli addosso Il salto Me la mostrei Perché secondo me È una figata assurda Bene Il nostro sembra stanco È la tua occasione Per leggerli danni a volontà Eh L'avessi preso adesso Sarebbe stato interessante Vira via le lame Va E prendiamo un po' Queste impronte Già che ci sono Seguiamolo anche Un altro Noto da qui Che si vede benissimo Dove vanno i mostri E nei vecchi Monster Hunter C'erano le schermate Di caricamento E quindi spesso e volentieri Si perdevano i mostri Perché una volta Che ti passava La schermata di caricamento Non sapevi mai Dove andavo a finire Qui invece Noto che Si vede Per fortuna Ci sono delle scorte Ok Maglio una reazione Già che ci siamo ragazzi Almeno Ci riprendiamo un po' D'energia E come vedete La barra Della stamina È aumentata Perciò Tanto di guadagnato Dovrebbe essere qua Sapete Eccolo qui Hai mangiato roba Potrei romperti la sacca Se riuscissi a prenderti Come si deve Potrei Trovarci No a romperti Quella benedetta sacca Però la coda Era l'obiettivo Principale Onestamente Quindi cercherò Di Sfruttarlo Perlomeno Di sistemartela Così Da Ricavare Qualche materiale Particolare Mi ispira tantissimo Quasi più Della coda Non vedete Il danno che facciamo È veramente l'ultimo Se avessi avuto Le lame Le motoseghe Vi assicuro Che a quest'ora L'avremmo già battuto Quasi Perché Sono veramente Veramente Anche eccessivamente Forti Rispetto al normale Vai così Ce l'ho quasi fatta Dove fai? Se devi fare così Allora io Ti attacco La buzza Di così Bello qua No no Non davanti a Le Preparati ad affrontare I suoi assunti Più feroci Ma l'idea c'è Ti preoccupare L'idea di attacchi Più feroci Non c'è Cosa Che abbiamo Vai ora Si è girato Dalla parte sbagliata Vieni che è girato Vai ora che è girato Vai ora Bello Provato a rompergli la sacca Già che c'ero Forse era meglio Invece continuare Guarda Verso la tua Quasi allo stremo Scommetto che tornerà Nel suo nido Per recuperare le forze Facciamo di coprirla Almeno un'altra volta Prima Ok Che posso fare Qualsiasi cosa E sono interessanti Questi colpi dati così Sapete perché Perché a volte Funzionano Perché comunque Sono tenuti conto Come colpi normali Quindi lo continuate a indebolire Colpendo in questo modo Sono colpi in meno Che darete dopo E che magari Vi possono servire Per staccare In questo caso La cota Ma anche Qualche Altra sua parte Del corpo Non è così Non va C'è un'idea No Vedete anche voi Lui intanto Sta cercando di tornare al nido Come ci ha detto anche Il nostro Capitano Lui intanto Volevo utilizzare La cota Per rimettere L'acutezza all'arma Pezzi ci sei? Partiamo all'attacco Pezzi Dai che ce la facciamo Intanto io l'ho perso Mi sa Oddio Direi che Pezzi Ti ha preso pieno Mi dispiace Pezzi Cos'era quel Lume flamoroso Ho visto Ho visto Un lume Pazzesco La vita al demone E via così Va in questo modo Va in questo modo Perfetto Continua Non so se Gli l'ho rotta la pancia Sì Ok Ti fai prendere Quell'oggettino Sotto l'idea Questo è un baccello Perforante Perfetto E' una potente munizione Per la fionda E può perforare Le stesse corazze Dei mostri No no Io volevo Quell'oggettino Che ho appena preso Peccato che L'abbiamo battuto così Non sono riuscito A staccare La cota Dannazione Andiamo indietro E facciamo rapporto Al vecchio E con calma Ora ci torniamo Perché la pancia Però gliel'ho presa E quindi Era interessante Scusate Mi fate un attimo Prendere i resti No Non mi attaccare ora Statemi lontano Statemi lontano Guardate che fate La sua fine Quindi easy Cari mostriciattoli Tranquilli Io mi devo prendere i pezzi Qui abbiamo Pelle di gran giacras Eccetera Qui non è che mi dai qualche ossetto Qualcosa del genere No Va bene D'accordo Cerchiamo un po' di prenderci Altro materiale Allora Possibilmente Perché è una cosa Utilissima da fare Visto che abbiamo ancora 20 secondi Cerchiamo di sfruttarli Nel miglior modo possibile Dato che Monster Hunter Ti dà questa possibilità 10 secondi Vai di giacras Dai 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 Qualunque cosa ci sia Prendila Dai Sì Me l'ha presa Osso piccolo Yes Vai E' utilissimo Fare queste cose Perché Sono comunque Oggetti che si Prendono in tranquillità Relativa No Quindi tanto vale Sfruttare il più possibile Questi momenti Prima della fine Della missione Vera e propria Cioè prima del ritorno Al campo base Stiamo tornando Al campo base Vero Perché ci stiamo Forse abbiamo una traccia Sì Sembra Tipo Di cosa Non Non Debrago Vero Diamo un'occhiata Ma io Tornerei anche Volentieri a casa Detto sinceramente Abbiamo fatto ora Un combattimento Con un gran Giagrass Perché Complicarci la vita In questo modo Cari insetti guida Prima dovevi fare Da te C'era gli insetti guida Ma ciao Pukki pukki Ma avevi ragione Pukki pukki Ecco la nostra preda Bellissimo Guardate L'avete vista La prima È Colorata Mi sa che è delenosa Lo sapete Qualcosa Deve L'imposito Tipo Quell'ammasso Di lava Guardatela È quello Che diavolo è Cacca di drago Non ho mai visto Nulla del genere Pensi sia Dello Zora Magdaros Fatto Bisognino Ma prima Sarebbe meglio Fare il rapporto D'accordo? Ok Secondo me Ci ha dato Sotto pesante Lo Zogda Magdaros Lì Quell'appare lì Mangiato Ho fatto Baldori Ieri sera Poi Oggi Ha lasciato Andare pesante Comunque Allora Sfratto dei Chastodon Livello 2 Missione La 2 stelle Fatta Guardate un po' Qui quante Cosette Interessanti Abbiamo Anche una Sfera armatura In questa Ci possiamo potenziare Le nostre armature È molto importante Abbiamo Lo scalpo Di Chastodon Questo è interessante Molto interessante Ok Non avevo visto L'averlo recuperato Infatti ne abbiamo preso Uno solo Uno solo La criniera Di Gran Jagras Abbiamo Yes Non avevo notato Wow Molto probabilmente Me l'ha data Con Quel pezzo speciale Che ho preso Non me l'ha data Come Interno Diciamo E qui cosa abbiamo Due pelle Un Chastodon Ok Un scalpo E una corazza Vabbè Prendi tutto Fatto giusto Per vedere Quello che abbiamo raccolto Il nostro compagno Ha raccolto solo Un nostro dimostro piccolo Ma comunque Fa il suo Lasciatelo stare Il nostro pezzi Che fa il suo Fa il suo dovere Ok Il livello di ricerca Ha aumentato Del Gran Jagras Benvenuto Nel nuovo mondo Medaglia ricevuta Per aver completato Gli incarichi Una stella Relativi alla storia Grandi Anche un achievement Di steam Sbloccato E' stato aggiunto Un nuovo film La galleria Grazie Ottimo così Ragazzi Vediamo un po' Se c'è qualcos'altro Se no ci salutiamo qui Per questo episodio Poi io mi farò Qualche missione Personale Se ne avrò Qualche missione Facoltativa Se ci saranno Ovviamente Perché dipende Se ci sono No continuiamo Con la storia Dipende un po' Come funzionano Le cose Tanto di solito Nella storia Ti mettono anche Mostri Comunque grandi Quindi anche per questo Che volevo portarvela Perché immaginavo Che ci fosse Un qualcos'altro Oltre ai cast Capisco Pensate di aver trovato Qualcosa Che può condurci Allo Zora Magdaros Vorrei inviare Alcuni ricercatori Nella zona Ma non certo Con un Pukipuky Infuriato nei paraggi Ragazzi Lo chiamo Pukipuky Mi piace chiamarlo Pukipuky Io lo chiamerò così Quindi ok Il territorio Del Pukipuky È nel cuore Della foresta Meglio essere preparati Agiremo Non appena La squadra Del centro Di coordinamento Avrà ricostruito L'accampamento Nella foresta Andiamo Fino a quel momento Faremo il possibile Per aiutarli A rendere operativa La base Muoviamoci Benissimo Una volta sistemato L'accampamento Potrai metterti Sulle tracce Del Pukipuky Mi chiedo Dove possa essere Il centro di coordinamento Ok Ottimo così Parla con la detta Le risorse Beh lo faremo Non In questo episodio Non so neanche Se ve lo porterò a video Faremo direttamente Il Pukipuky Poi deciderò Il Pukipuky Poi deciderò Con calma Io per questo episodio Vi saluto qui Vi ricordo se vi va Di lasciare un bel like Al video Se il video vi è piaciuto Condividolo sui vostri social Così mi date una mano A crescere come canale E noi ci vediamo Alla prossima Tanto Il nostro Geralt Io non so mai Che sta guardando È sempre girato Da una parte Non capisco mai Tra un po' Si stronca l'osso del collo Ma non capisco che guarda Beh Alla prossima ragazzi Ciao Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi